eccoci finalmente sono la reazione cinquesimo del secondo tempo siamo quindi abbiamo sbagliato un altro rigore abbiamo sbagliato ma non gol per otti si sbagliamo in questo campionato non riusciamo a segnare appena è uscito delle grini è entrato floghe non è appena entrato scusate defraele defraele è appena entrato tanto conclusione di kolarov vince sul fondo fuori rami gaston amiraz cavolato in panchina bucalino in panchina di francesco fuori la storia ecco ovviamente fa prenderà perotti entra ricchi alvarez hai capito tutto oggi ti parlavo un giorno fa di perotti perotti non bene perchè è un po' lontano però ecco ovviamente entra perotti chi esce esce un vero vabbè bravo dai bravo sembra un po' lontano non so un po' lontano mi pare pare quello che era con philips pare oh grande manolas florenzi dai raga dai vai diego vai strotman ancora colorov ea bene colorov non ti è cura la luna però colorov tirare in cura la luna tirano no è colorov ma colorov no è non ci siamo dai questa è l'occasione dai ragazzi dai vai vai mamma mia bravo strotman vai tirare in faccia quel deficiente del barredo palla lunga oh e dai se fischiavi questo bantite il cavolo mamma mia se non fischiavi questo ma se questo pare una cifra di diversa mi pare vai vai andiamo per me gioco vedi nemmeno fa cavolare se vado assai vai però ti cacchio così io come la svezia come la svezia come la svezia questa non è la divisa la svezia è anche colpa nostra però impossibile però sbagliarsi i cacchio dei ricori però non è impossibile cacchio vuoi sto dicendo banti inizione vai 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 c'è però ti c'è dietro vabbè 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 guarda la fatica tira no tira vabbè 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 fuori del sierabri entra Antonucci assolutamente è giovane sembra ragazzo c'è un po' la luce perché sto contro luce vai 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 no no che caro mannaggia mannaggia vabbè bravo dia bravo munito no 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 eh come sei fa come sei fa come si fa come si fa come si va Non c'è il cavolo, a Florenzi, eh, che boh, quelli di Florenzi, ma che c'è, che cosa c'è vuoi sapere, no? Qua? Qua? Ma, Jesus. Che culo, però. Qua? Oh, ma che si ha detto? Jesus. Tu non c'è. Guarda. Ha rotto le palle in vita, ha rotto le palle, è vero? Jesus. Vai. Mano l'asse. Vai. Mamma mia. Vai, rischia a fallo. No. Che palle. Oh. No. Eh, calma, calma. Che cosa, che cosa, che cosa dici, Francesco? Che dici? Ma regna. Calma. Perde, io dico. Perde qua. Demo la zampa. Vai, colorov. No, riusciamo a segnare. No, 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 no. E' peggio, sta partita. E' peggio, sta partita. E' peggio, non è il 2015, non è il secondo zero. Non crossare, non crossare, non crossare. va 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 eh ragazzette piagni vattene no tanto quest'anno è così no eh si ancora ci fate vedere la classifica ancora ancora ci fate vedere il culo ancora cazzo vale dacce sto pallone dacce deficiente guarda ragazze al cielo che guarda ragazze al centro sul puttale guarda entra capezzi dai dai mamma ma guarda guarda non riusciamo ad andare avanti non riusciamo più a fancavo riusciamo più a fa' che ogni anno è sempre così ogni anno è sempre così sempre ogni anno guarda 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 guard ma tu ragazzi in casa con la Sampdoria dai va permi in casa con la Sampdoria magari morissero sti Sampdoriani sono mi stiamo fatto un'azione nel secondo me una e dai cioè non me ne ho detto cavolo in me ne ho ma se è giusto riesce il pregio cioè bisogna avere il pregio dai 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 che grosso è? ma che grosso è? ma che grosso è? mamma mia lo sta schifo proprio ma che fa Strothman con quei tacchi li metti a fa' sempre con quel tacchi ha rotto le palle è rotto mamma mia dai Nengolan guarda Nengolan guarda Nengolan guarda Nengolan guarda Nengolan la parte del più brutto di Nengolan che capisci in tutta la vita mamma mia non mi faccio da male guardi tutte le palle dai su fischia palo deficiente io ti ammazzo ti uccido io ti uccido io ti uccido io mamma mia che deficiente io male ti spacca io la testa quello deficiente devi morire ti uccido io non lo voglio vedere, toglietemelo dalla faccia che... gli spacco per naso, gli spacco io gli rompo il naso, gli rompo vai defrael 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 che defrael che è velocissimo, non ci può ripare purtroppo non ci può ripare defrael, purtroppo non ci può ripare coraggio ma chi? ma guarda tu che te vi... ma avete rotto le palle, avete rotto le palle non sapete giocare, non sapete... non sapete giocare, non sapete... avete rotto... sta figlio di sto video